Per ora non stiamo andando tanto bene, anzi per niente E abbiamo sempre partite difficili Ma perché? Ma... ma... dai Liverpool Chelsea Con Fildo U di modalità campione Sereno, che bello c'è Sereno Ciao Sereno, come stai? Eh, sto bene, tutto raggioso qua Eh, ma mi hanno detto che hai fatto un incidente Eh sì, sono caduto con la bici e sono finito nei raggi Salve a tutti e benvenuti in questo 45esimo episodio di FIFA Carriera Allenatore E spero di vincere stavolta Viene messo giù e non è fallo oggi, non è fallo Come ieri, come l'altro ieri, come sempre con Liverpool Siamo solo contro la seconda in classifica No, oh, 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 non è successo niente, vero? Lewandowski? Eh sì, allora lo fate apposta, fate schifo No, 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 oh mamma Quadrado, eh vabbè, tutti insieme Optiamo sui calci di rigore Ma una partita di campionato non ci sono i calci di rigore Intanto stavo per subire gol amaramente proprio Lukaku la passa per Starridge, Starridge col pallone, Starridge 1-0 Al primo tiro Ora va molto meglio Ma come abbiamo visto con l'arsenal Meglio segnarne 12 Non mi piace L'ho salvata, dimmi che non l'ho salvata Ma dai Perin E finisce il primo tempo 1-0 per noi Bene Strutman ci prova Gozzi batte il caccio d'angolo Ci va di testa Starridge Invece no Lukaku la parla E niente, dai Faccio entrare Inks Perché oggi mi ispira Firmino batte il caccio d'angolo Ci va di testa Rugani 3-3 Due gol di fila Sia contro l'arsenale Sia qui Molta bene È stato Inks che ha portato fortuna Ci prova 2-1 Rugani la crossa Centro Klein E 2-2 Non ci credo Dai la passa per Starridge Che pesce, il pallone bellissimo Per Inks Inks Lo sapevo 3-2 subito Ma che palla ha messo Starridge Mi ha Inks pirato Inks passa al centro Inks Inks Calcio di rigore Lo batte logicamente Inks E lo mette anche a segno Doppietta di Inks alla prima partita Ma io lo sapevo che oggi faceva robe E finisce 4-2 Ma che difficoltà D-C-C-A E Ali sale a 79 È salito Ah ma siamo in Europa League No Fantastico Con Daniel Soengas Bello Bello Perché lui è bello In modalità campione Contro lo Standard Liège Ma che cacchio è lo Standard Liège Tanto io dalle squadrette Becco su Dalle grandi squadre Becco su Quindi la cosa insomma è così E giochiamo in casa Molto bene No, 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 no Per In Mi è crossato Ci arriva Dai Il pallone per Lukaku Lukaku la gioca per Starridge Si va a Coca Il pallone è passato per Lo Eh, 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 no Cosa fa? Ma cosa fa? Ma è deficiente È facile ma devo segnare Firmino la crosso Al centro E vedo Tiro per Lukaku 1-0 Dovevo Segnare Meritatissimo E finisce il primo tempo 1-0 per noi Va tranquillo Finché Starridge va Lascialo Canare No, 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 no E lo sapevo Sono deficiente No, 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 no Sto buttando via una partita Non è crossata al centro, ce ne vedi No, sta a Riggi la passa, spero che non sia in fuorigioco Non è in fuorigioco, Riggi, Riggi Riggi, 2 a 1 Mi sto affezionando il gol all'ultimo minuto E di quelli che entrano poi Meier la passa, il pallone viene passato, ci prova il destro Ed è fuorigioco, cavolo E finisce la partita, 2 a 1 Con Michael Oliver In modalità campione e sereno Crystal Palace, Liverpool Spero di cavarmela almeno col Crystal Palace Non guffo più ormai Perché tanto so già che sia vera, è proprio una cosa logica Siamo contro il Catania Starage la crossa al centro per Lukaku Traversa Rossano al centro, che cacchione Rugani che gol stavi per fare nella porta sbagliata Lukaku la gioca benissimo Il pallone viene recuperato da Strutman Strutman, 1 a 0 Meno male, meno male Riescono a sbagliare i passaggi Ciò mi fa recuperare palla, sono bravissimi No, 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 no Oh, guffata si chiama questa, guffata È una cosa allucinante, è allucinante Lukaku la gioca per Stare Stare si ritrova il pallone La passa benissimo Per gozze da passi Ma che cosa succede? Che cosa? Buttala dentro No! No, 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 no Per in E no, è niente Finisce il primo tempo 2-1 per il Crystal Palace No, Lukaku, sei infortuna No 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 No, 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 no Mamma Ellie la crossa al centro C'è rivendita Sta Inks E invece no Star Rage Pareggia E finisce la partita 2-2 Meglio che perderla Questo è sicuro DBBDD Lukaku fuori 4 settimane E adesso abbiamo subito la Capital One Cup Faccio giocare, diciamo, la seconda squadra Con Abdul Majed Alresh Dedi Ha vinto il nome più strano In modalità campione sereno Ok Ah giusto Liverpool's won 6 city Klein con la palla Klein Klein cerca di passare Klein fa un numero bellissimo Klein la crossa al centro Ci arriva di testa Inks Ci prova al tiro La para Moreno Mamma mia Moreno Gliela cantate di santa ragione Ok no Bruttissima Bruttissima Ma che gol ha fatto Una maledetta al volo C'è la maledetta di sinistro Però non è tirato Perin Grande portiere anche lui Perin non c'è in porta E subisce gol Guffata come al solito E finisce il primo tempo 1-1 No, 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 no Perin Non è controllato male il tiro Mamma mia No, 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 no No, no Ma cosa zittisci? Vai a casa Ballone per origine No, no Markovic la crossa al centro C'è il primo Moreno Di testa a sacco Ballone ancora tirato Ci prova Sì Che gol ha fatto Sacco Al 92esimo Che gol ha fatto E si va ai supplementari Ballone in mezzo Ballone tirato Parato di Perin Si va ai rigori Markovic Gol Lanna ci prova la para Pallone tira ai gol Kahn tira gol Pallone pre Oh Ibe tira a rete Perini ci prova E niente Origi Pallone tirato gol Moreno tira a rete Pallone No Alli tira a rete Go rete Scretel tira a rete Sbaglia E andiamo 7 a 6 ai rigori E quindi dopo questo episodio Che credo che sarà lunghissimo Grazie a tutti per avermi visto Io sono XMS87 E ciao a tutti Ciao a tutti